attuale. Gliela pongo così la domanda a Ronzulli, no? Siccome noi facciamo questo mestiere, quindi non viviamo chiusi negli studi televisivi, poi uno va in giro, fa cose e vede gente, si sarebbe detto una volta. Un sottofondo che io ho sentito in alcuni esponenti della Lega è questo. Berlusconi ci ha reso il lavoro più complicato perché nel primo giro di consultazioni disse chiaramente io mai col Movimento 5 Stelle. Invece si sarebbe dovuto fidare di noi, cioè noi Lega, che eravamo il trade union tra il centrodestra tutto e il Movimento 5 Stelle perché piano piano ovviamente col tempo una soluzione si sarebbe trovata. Eh, queste sono le voci che io ho raccolto e le giro. In questo momento alla vigilia di questo nuovo giro di ricognizione qual è la posizione di Forza Italia e di Berlusconi? Intanto a quello che lei ha raccontato manca un precedente, mancano dieci giorni dove Di Maio non ha voluto, anche semplicemente si parlava delle presidenze di Camere e Senato, quindi scelte di tipo istituzionali, non certo governative, dove Di Maio non perdeva occasione di dire che al tavolo con Berlusconi non si sedeva, però voleva i nostri voti, che con Berlusconi al telefono non parlava, però voleva i nostri voti, che Berlusconi era appunto come diceva giustamente Giannulli per loro, tutto il male possibile, però voleva i nostri voti. E allora Forza Italia e Silvio Berlusconi, che ricordiamo essere la stessa cosa, cioè se uno vuole i voti di Forza Italia deve poter volere anche Silvio Berlusconi e parlare con Silvio Berlusconi, non tanto per una questione di orgoglio personale, ma per un rispetto verso i 5 milioni di persone che hanno votato quel simbolo. Ricordo tutti che quel simbolo porta un nome e un cognome, quel nome è Silvio e quel cognome è Berlusconi. E siccome quei 5 milioni di voti hanno, a loro bisogna dare rispetto e devono essere legittimati, hanno un valore, perché sono appunto persone che hanno scelto legittimamente di votare per rispetto appunto nei confronti di queste persone e non si farà nessun passo indietro se tutti e tre i leader del centro-destra non saranno legittimati, compreso Berlusconi. Come diceva il professore prima, da solo Salvini rappresenta il 17 e tutti insieme rappresentiamo la coalizione che di fatto ha vinto le elezioni con più del 37%. Questo è un fatto, è un fatto chiarissimo, innegabile, è una circostanza e di fronte alle circostanze se uno ha responsabilità, maturità, si siede al tavolo e soprattutto se ha a cuore il bene del paese, ragiona. Se invece a cuore evidentemente solo le poltrone o peggio ancora, se ha solo voglia di far saltare un sistema per tornare al voto nel più breve tempo possibile, fregandosene della situazione economica, del fatto che le famiglie non arrivino più alla fine del mese, insomma fregandosene delle risposte ai bisogni delle persone perché nel frattempo, mentre noi siamo qui a raccontarcela, mentre noi staremo qui domani a commentare le consultazioni, magari poi ci sarà un giro di saggi, passerà del tempo, nel frattempo gli italiani hanno già votato, si sono espressi, ma nel frattempo i milioni di poveri aumentano, le famiglie non ce la fanno, il lavoro non c'è, non si trova, le tasse insomma c'è tutto un mondo reale che esiste per fortuna e che non si può ignorare. Tante persone che tutti i giorni si rimboccano le maniche e vanno a fare il proprio lavoro, ha ragione. No, quello che le voglio chiedere, ma secondo lei, e faccio la stessa domanda che ho fatto a Giannuli, vista però dalla parte ovviamente di Forza Italia e di Berlusconi, cioè è insormontabile questo scoglio per il Movimento 5 Stelle, cioè secondo lei ormai la situazione è cristallizzata, è questa, non è che col tempo, visto che forse un po' di tempo ci sarà qualche posizione, qualche angolo sarà smussato? Dipende di come si alzeranno quella mattina, dipende di cosa troveranno nella rete, perché abbiamo chiaramente capito che si svegliano la mattina a seconda dell'andamento, dell'algoritmo di una rete, dell'umore delle persone che in quel momento si trovano davanti a una tastiera agiscono. Se saranno più interessati nell'accomodare il mal di pancia di qualcuno sulla rete in quella giornata, in quel preciso momento, sarà o no? Se, come dicevo prima, capiscono finalmente che dopo 5 anni non sono lì di passaggio, ma rappresentano una fetta di elettorato anche loro e che devono dare risposte a questa fetta di elettorato, probabilmente, però dipende tutto dalla maturità politica.